Gli angeli del cuore hanno un messaggio per te. Scegli la tua variante, variante 1 o variante 2. Per la variante 1, attrazione. Attrai amore romantico, godendo appieno di questo momento. Quindi in questo momento sei in una forte attrazione. Molte persone ti trovano attraente. E se hai un partner, sicuramente goderete appieno di questa tua attrazione. Variante 2. Soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. Probabilmente state lavorando insieme a un lavoro. o probabilmente avete qualche questione legata ai soldi o al lavoro insieme. Magari per l'acquisto di qualche immobile, magari per una vacanza, qualche progetto da fare insieme. Magari per l'acquisto di qualche immobile. Gli angeli del Millsanio Aff Rica. Magari per l'acquisto di PMB conv permetteur d'acquisto di verificare insieme di 2100 each. Magari per l'asquisto dilichen Progetto NGB.